Quale sarà il futuro delle piccole associazioni di volontariato? La domanda è di vitale importanza alla luce della riforma del terzo settore frutto della nuova legislazione che è arrivata ad aggiornare un settore le cui norme erano ferme a quelle di 25 anni fa. Per meglio comprendere la situazione attuale ed immaginare il futuro la CSV della provincia di Vibrovalencia ha proposto un seminario di introduzione alla legge delega e ai decreti attuativi per analizzare i principali contenuti e le innovazioni introdotte grazie all'aiuto di esperti e professionisti attivi nel panorama nazionale e l'assessore regionale al welfare. Il mondo del volontariato e del terzo settore più in generale hanno bisogno di una armonizzazione, c'è una legge nazionale che fa da riferimento, la situazione in Calabria com'è? Innanzitutto è aperta di dialogo rispetto a questi due piani di riforma che abbiamo la riforma di livello nazionale e quindi questo riordino di tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, dell'impresa sociale, di utilità sociale l'investimento sui territori e poi c'è la riforma del welfare quella che sta cercando di recuperare un ritardo storico che c'è stato nell'applicazione della legge tra il 28 e il 2000 rispetto ai servizi delle politiche sociali e la prossimità e la sussiderietà dei servizi dalla regione ai comuni che è figlia di un percorso che abbiamo fatto insieme proprio con il CSV il forum del terzo settore, tutto il tavolo istituzionale composto dalle strutture socioassistenziali perché al centro del welfare ci devono essere le persone e per costruire il welfare la cornice non può essere mai unilaterale ma deve essere necessariamente bilaterale, anzi concertata e condivisa in maniera il più ampia possibile proprio per essere certi che si raggiungono le persone e che soprattutto si privilegiano le fragilità, le debolezze e le persone con maggiore esposizione e vulnerabilità La nuova legge dà una dimensione diversa nel rapporto e nella gestione del mondo del volontariato Sicuramente l'elemento positivo è che questa è una legge attesa da tanti anni che in qualche modo rappresenta un po' il dettato costituzionale del terzo settore fino a oggi avevamo avuto leggi a compartimenti stagni, a carne d'organo come venivano definiti dai giuristi e la stessa 266 che era la legge quadro sul volontariato in realtà aveva ed ha delle lacune enormi quindi il nuovo codice del terzo settore sia in relazione al volontariato sia in relazione al resto degli enti del terzo settore può offrire un riordino che comunque era assolutamente necessario Ai profani l'incontro ottenutosi alla biblioteca comunale organizzato dal CSV di Vibo Valencia ha dato l'impressione che con la nuova legge si cerchi di avere una sovrapposizione di ruoli del forum del terzo settore sulla rete dei centri del servizio del volontariato locali andando in controtendenza alle finalità dei due enti il primo di rappresentanza politica presso le amministrazioni dovendo anche rappresentare strutture come le cooperative sociali che sono paragonabili a delle vere e proprie imprese con bilanci e dipendenti e il secondo di supporto alle associazioni di volontariato e quindi totalmente no profit finanziato per legge esclusivamente dalle fondazioni bancarie Non c'è nessun tipo di conflittualità tra i due enti perché la legge nazionale sancisce due cose i centri servizi per il volontariato lo dice la parola stessa sono dei centri che erogano servizi per tutto sia per il volontariato ma anche per quel volontariato che trova ospitalità dentro l'insieme del terzo settore quando noi pensiamo ad esempio che nelle cooperative c'è una quota di volontari cosa abbiamo detto? Il forum del terzo settore invece per legge ha una funzione di rappresentanza politica cosa voglio dire con questo termine? che ha una funzione di rappresentare presso le istituzioni le esigenze di questo mondo quindi i centri di servizio e forma del terzo settore hanno due ruoli totalmente diversi che si in qualche modo incrociano e completano l'un l'altro uno eroga servizio, l'altra fa rappresentanza degli interessi generali C'è un'altra differenza che secondo me è fondamentale che il volontariato è assolutamente no profit anzi spesso e volentieri il volontario ci mette di tasca porope mentre nel terzo settore spesso e volentieri lei ha parlato di cooperative c'è una percentuale di profit non indifferente Assolutamente no, devo dire no perché per legge fino ad oggi ma anche in futuro la cooperazione sociale non può assolutamente dividere utili ma qualsiasi cosa si produca al limite con la nuova legge può essere reinvestita punto se ci sono state delle distorsioni da parte di alcuni piccoli segmenti e noi Roma Mafia Capitale ci insegna sono degli elementi assolutamente strani alla logica di questo mondo Il rischio concreto è che i CSV provinciali speriscono riuniti in un unico ente regionale al contrario stanno aumentando le sedi territoriali in regioni del forum del terzo settore che operano nei servizi del volontariato dell'associazionismo della cooperazione sociale della solidarietà internazionale del commercio eco-solidale e della finanza etica E purtroppo la legge va invece in direzione opposta ai desideri delle associazioni proprio perché cerca di centralizzare con l'obiettivo dichiarato dalle fondazioni bancariche che in questi anni hanno per legge finanziato il CSV e quindi il volontariato di ridurre i costi di ridurre i costi